Ciao, siamo orgogliosi di presentare la serie di transmittori F-M. È una sintesi di un design di hardware e software di fornitore combinando la tecnologia state-of-the-art, la grande utilità di usare, la gestione e la mantenzione. La serie di transmittori F-M incorpora un modulatore di high-end DDS con un processing digitale, un encoder, un encoder di RDS e anche un processor di audio. Puoi scelere la vostra scuola preferita tra le molte cose disponibili, un servizio di radio, un servizio di satellite e un servizio di digital, un servizio di microSD card reader, un servizio di FM e molto più. Inoltre, l'adaptive-efficiency-boost algoritmo garantisce che potete ottenere la massima efficienza in ogni condizione operativa. La struttura di Wavplan Output Power Scheduler permette di ridurre le costi operazioni. I nostri clienti dicono che non c'è altro trasmittore comparabile con la Wav in termini di performance, feature, tecnologia, innovazione e anche per il suo valore. Con più di 40 anni di esperienza in analoge e digital broadcasting, ci troviamo equipamenti di performance per le stazioni di livello scopo. Ci troviamo tecnologie smarte e ci troviamo soluzioni che migliorano la vita di persone. Il nostro focus è sulle persone, sulle business e sulle esperienze. La nostra missione è innovare il broadcast radio. Descobri tutte le strutture innovazioni e le specifiche di matchless nei nostri video dedicati.